Nei prossimi giorni assisteremo ad un nuovo e più marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche. In questa fase di aria fredda proveniente da Est, apporterà un sensibile calo delle temperature accompagnato da piogge e nevicate a quote basse. Nella notte, tra mercoledì e giovedì, assisteremo ad un ulteriore peggioramento. Le temperature scenderanno notevolmente su tutto il territorio regionale. Nella giornata di giovedì il tempo risulterà variabile, con deboli rovesci nevosi che interesseranno in maniera sparsa tutto il molise interno e in maniera occasionale la fascia costiera. Il tutto sarà accompagnato da eventi settentrionali e mari mossi. Dunque, per limitare quanto più possibile i disagi che ogni evento naturale di precipitazione nevosa comunque porterebbe, è necessario adottare le seguenti precauzioni, indossare abiti e soprattutto calzature idonee alla situazione e all'eventualità di sostenere spostamenti a piedi. Non aspettare a montare le catene da neve sulla propria auto quando si è già in condizioni di difficoltà, specie se si devono affrontare i percorsi con presenza di salite e discese, anche di modesta pendenza. Avere disponibile in ogni stabile almeno un badile o una pala da neve da utilizzare per eventuali attività di rimozione anche in casa e per limitare i consumi, cercare di chiudere bene ogni finestra quando i termosifoni sono accesi ed evitare di uscire durante le ore più fredde della giornata. Tuttavia l'arrivo della neve è previsto soprattutto in montagna, per molti è visti come un evento positivo, soprattutto in vista della stagione sciistica che nella nostra regione tarda ancora a partire.